Dopo due anni di pandemia siamo tutti pronti per questo nuovo evento, la quattordicesima edizione, il Pinettini e Moderne Music Festival Trorna a essere protagonista. La nostra parola quest'anno è reload, che proprio significa ricaricato e vogliamo proprio ripartire alla grande con questo cartellone di primissimo livello. Ringrazio la collaborazione del Comune di Pineto e non solo, anche la provincia e tutti quanti gli enti. Quest'anno partiamo con l'11 agosto con gli Almame Gretta, con il nuovo Senghe Tour, poi ci sarà il 12 agosto i 24 Grana, anche loro si sono riuniti e hanno fatto un nuovo disco. E poi il 13 agosto per il gran finale gli Zen Circus con l'apertura dei Management, dove loro faranno anche una canzone insieme, Voglio invecchiare male, che è proprio l'ultimo album, caro i fottutissimi amici. Quindi aspettiamo tantissima gente come sempre, il calore del pubblico ci manca veramente, quindi ripartiamo, speriamo che tutto sia per il verso giusto. Come amministrazione siamo contentissimi che torni Pinettini e Moderne, tra l'altro alla quattordicesima edizione, un connubio tra l'associazione di svegli sonori e l'amministrazione che dura ormai da 14 anni. Invitiamo tutti, sia i turisti che i cittadini di Pineto, ma anche le città limitrofe e perché no, anche da fuori regione, a venire al Parco della Pace a gustarsi tre giornate di musica nel segno del divertimento, della tranquillità, della serenità e finalmente del divertimento, perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie.